Questa è la prova di maturità che ci si attendeva? È stata una partita strana, con molti alti bassi, con molta tensione anche in campo, seduta alla fine, però noi siamo stati bravi, siamo stati concentrati, siamo stati uniti e nel momento determinato siamo riusciti a venirne fuori. Quindi sì, credo che sia una piccola prova di maturità passata, adesso ce ne aspettano altre, magari anche più abbordabili, ma dove assolutamente non dobbiamo fallire. Siamo qui adesso con Tondo invece. Terza vittoria consecutiva, adesso c'è la consapevolezza che si può fare qualcosa di importante o si aspetta ancora miglioramenti? Beh, abbiamo vinto, sicuramente è una bella partita, abbiamo fatto vedere quanto valiamo, sicuramente il fatto che loro avessero un discreto via vai dall'infermeria ci ha aiutato, però secondo me è stata una bella prova di carattere. La terza vittoria di fila, appunto, come hai detto. Sì, abbiamo ingranato, però ancora dobbiamo mettere seconda, terza, quarta, quinta e ancora. Grazie. 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 Grazie.